Sei una recluta e non vuoi perderti neanche un video di Rocket? Beh, facilissimo! Premi la campanella per abilitare tutte le notifiche e seguimi sui social che troverai in descrizione la pagina Facebook, il canale di Telegram e la nuova pagina di Instagram Buona visione! Salve a tutti le reclute qui di Rocket e benvenuti ragazzi in un nuovo video evento di Pokémon Ultra Sole e Ultra Dura Allora mi avete chiesto veramente in tante ragazzi di continuare questo video evento di diverse quest secondarie di questi giochi e quindi oggi continuiamo dopo il grande successo del video di domenica riguardante Paver insomma che torna alla fondazione Eder ragazzi veramente grazie mille per il supporto continuiamo anche quest'oggi con un bel mi piace un commento qui sotto con la DG e nella descrizione del canale Allora farò quest'oggi diversi eventi o meglio 2-3 riguardante due personaggi che interagiscono anche nei giochi ovvero Malpi, la Super 4, il capitano ragazzi e Augusto, il K1 di Ula Ula Allora dovete venire qua nella biblioteca di Mali penso dopo la Lega però non è ben specificato ragazzi in giro per il web quindi voi per essere sicuri venite dopo la Lega in caso Allora vedete che qua c'è un libro verde che ci servirà dopo per una piccola cosa extra ancora di più ragazzi di questo evento e qua c'è Malpi in fondo a questo corridore della biblioteca quindi parliamoci un po' ehi campione vuoi sapere un segreto io con i segreti guarda sono voglio ascoltare tutto tanto tempo fa mio padre mi raccontò che nella biblioteca di Mali nascosta da qualche parte c'è un libro segretissimo di cui nessuno conosce l'esistenza ok già si fa interessante la cosa trovato non è facile bisogna fare una specie di giro delle isole ma tra i libri addirittura non conosco bene i dettagli ma so che il primo libro è ad Allora ero qualcuno ok non ho ben capito ragazzi cosa vuol dire questa cosa Malpi spinge leggermente un libro secondo te che libro avviene dopo Rocket? ok un duetto di volontà i quattro pokemon protettori l'intrepido popolo del mare cosa? va bene proviamo a fare un duetto di volontà ok adesso quel libro scegliamo non saprei non saprei cioè l'intrepido popolo del mare ok cioè ragazzi è senza senso questa cosa comunque sia e con questo fanno quattro libri il nostro giro degli scaffali finisce qui avevamo scelto bene la libreria si sposta rivelando un anfratto nascosto adesso ragazzi passaggi segreti addirittura in pokemon oh adesso ho capito nel titolo dei libri è nascosto un numero da 1 a 4 allora l'ordine era giusto sei un genio Rocket si lo so lo so sono un genio nascosto incompreso ma lo so in fondo all'anfratto c'è un foglio bruciacchia dai Rocket leggilo che c'è scritto vediamo vediamo questo segreto dal cielo discese colui che ruba la luce necrozo tanto per dire e il mondo non conobbe che la tenebra la tenebra ok colui che ruba la luce si impossessò della creatura che evoca la luna e ne fece le sue due ali dell'aurora ok tutto ha senso un giovane e le divinità potetrici univano le forze e usando la pietra che evoca la luce separavano colui che ruba la luce dalla creatura che evoca la luna fu così che le tenebre furono scacciate dalla legione di alora anche questo ragazzi sappiamo tutto praticamente colui che ruba la luce deve essere necrozo ma giusto? beh ho sentito che tanto tempo fa un sovrano fece bruciare tutti i libri scritti su necrozo per evitare che si spargisse il terrore tra la gente ma qualcuno è riuscito a salvare una pagina nascondendola dietro questa libreria non andiamo vanno il suo impegno custodiamo questo questo segreto gelosamente ok torno alla lega beh ragazzi quindi praticamente hanno censurato necrozo hanno bruciato tutti i libri inerenti a questo pokemon e l'hanno censurato al popolo beh un segreto abbastanza insomma strano e molto molto nascosto nella libreria ma torniamo a questo libro verde che ci servirà per un secondo mini evento come vincere quanto tipo terra è molto semplice basta usare un pokemon o mosso di tipo acqua erba o ghiaccio ok apparentemente è caduta una foto da questo libro ragazzi si vedono una ragazza e un muddale in un campo beh questa cosa qua ragazzi io l'ho già abbastanza vista vi porterò alla risoluzione di questo evento negli archivi dovrebbe ancora esserci il nome di che aveva preso in prescitto il libro ok forse possiamo risalire dammi un momento quel libro ok fai pure tutto quello che vuoi tanto io so già cosa devo fare in questo momento ok ragazzi quindi mentre la detta la detta liberia cerca di risalire alla vecchia proprietaria noi vogliamo dalla proprietaria quella vera che si trova ragazzi nella isola di Pony in una casa abbastanza insomma sperduta più o meno allora quindi andiamo a Pony e qui alle porte ai piedi del canyon di Pony per andare ragazzi in questa casetta dove ci sono due mini eventi e di cui uno ragazzi è una piccola chicca che vi offro io che è abbastanza un evento nascosto questo però ve lo voglio far vedere perché non so in quanti l'abbiano visto penso in pochissimi però è una cosa in più ragazzi che vi voglio mostrare molto bene allora nella casetta di api ragazzi che è questa qua è una casetta abbastanza diroccata abbastanza messa male possiamo così dire a Pony ci sono due piccoli eventi il primo riguarda la foto e bisogna semplicemente entrare in casa e interagire Mazzaril osserva con attenzione Rocket ok abbiamo trovato ragazzi appunto il libro e la foto della nonna di api che appunto possereva in origine il Mazzaril che ora è della ragazza della Kauna api quanti ricordi ed ecco appunto questo flashback della nonna che è un'allenatrice ragazzi insomma generica non hanno fatto uno sprite insomma specifico ma è un'allenatrice di quelle insomma normali generiche non si sono sforzate più di tanto ok quindi ragazzi vediamo un flashback di quando la nonna di api era giovane e voleva appunto affrontare la prova della Kauna possiamo così dire gli e Mazzaril siamo sempre stati insieme e poi un giorno è arrivata la piccola api così come un dono dal cielo molto bene quindi mi dai una squama cuore se non ho visto male ok una piccola ricompensa ragazzi per questo evento molto bene però c'è un piccolo soprammobile qua che bello questo adesivo del dominante bene bene ma non è finita ragazzi questa qua è una piccola chicca non è un evento molto molto importante particolare ma è una cosa che vi faccio vedere infatti nella camera della casa di api se voi insomma dormite dato qua c'è un altro adesivo nascosto chi è che entra qui non lo so se ragazzi dormite in questo letto vedete che succede adesso dormiamo ok la musica sparisce quindi sembra che tutto vada a secondi piani una bella dormita intensa ma c'è un piccolo riferimento all'inizio del gioco e insomma anche così la buttolì al miau dell'anime che graffiava insomma gli altri eccolo qua ci graffia ci sveglia fantastico dall'esempio di miau è caduto qualcosa una sveglia ovviamente ha tutto molto senso ok quindi questo miau di alora ci ha svegliato graffiandoci il volto molto molto bene un evento abbastanza strano ragazzi e molto molto nascosto ma parlando appunto di miau di alora beh questo sarà appunto l'argomento dell'ultimo evento di questo video infatti entrando nella stazione di polizia ragazzi nel percorso 17 fuori dalla città fortificata del team skull vedremo un evento in teoria che riguarda appunto il miau di alora eccolo qua c'è la stazione in cui è piena di miau ragazzi e c'è Augusto che si improvvisa il professor Occo in questa occasione sei sicuro di essere pronto per affrontare il giro delle isole? si prontissimo anche la mamma ha detto che posso andare ah beh allora guarda sei a posto e allora non mi resta che fare il tifo per te scegli un pokemon tra questi tre e come tu fedele compagno di viaggio evviva ragazzi una scelta dello starter molto molto difficile veramente abbiamo tre pokemon identici non deve essere così difficile il primo pokemon è miau ama fare riposini talebba alta un carattere indolente e rilassato ok il secondo pokemon è miau è una testa calda e spesso agisce impulsivamente miau beh difficile e l'ultimo pokemon è ovviamente ragazzi miau ha un cuore grande come il mare nessuno è più gentile di lui aula ula vero sagge parole ragazzi chi non è più gentile di un miau allora che ne dici quale miau preferisci davvero posso scegliere quello che voglio fantastico sono così differenti però ecco è difficile non riesco a decidermi ah ma guarda chi c'è ciao ragazzino come vedi anche anche io a volte mi occupo dei miei compiti di cauna a volte signor kawo non riesco a decidere è un bel problema sono tutti così carini questi miau anche quel ragazzino lì sta facendo il giro delle isole sai perché non gli dai un consiglio anzi non gli chiedi un consiglio meglio quale miau dovrei scegliere beh io ragazzi sceglierei quello più generoso che ha veramente il cuore grande come il mare quindi l'ultimo 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 ragazzi è il prescelto è lui sì dà il cuore grande come il mare il più gentile dai scegliamo lui ragazzi è veramente un ottimo elemento che bello mi piace un sacco questo miau e mi c'è qualcosa oppure niente proprio zero ricompense però dai è un evento ragazzi carino abbastanza insomma abbastanza simpatico bene mentre che Augusto si parli assai dopo i suoi compiti di cauna ragazzi io finisco il video vi invito a lasciare veramente un bel mi piace per questi eventi abbastanza simpatici e insomma secondari di questo gioco mi raccomando ragazzi un bel like un commento qui sotto una bella iscrizione al canale per oggi era il buono rocket è tutto quindi un saluto e buon pomeriggio e ovviamente bye 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 e grazie a tutti Grazie a tutti.